E' una persona che per la prima volta oggi è venuto a Reggio Calabria, ma ha un legame di sangue oramai con la Calabria e per la prima volta è venuto a Reggio Calabria, è venuto come un terremoto, che poi c'è stato, è il terremoto in Calabria. Flavio Briatore. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti, ciao. Beh, non è stato tanto gentile associare il terremoto di questa mattina all'arrivo di Flavio Briatore. Il terremoto non è colpa niente. Bell'applauso per Flavio che non c'entra niente. Sì, perché su Twitter ha scritto pure che porta il terremoto. E' la prima volta a Reggio Calabria. Che impressione ne hai avuto arrivando? Devo dire la verità o...? Devi essere sincerissimo. Altrimenti, come dice qualcuno... Sei fuori. Bravo. L'impressione qual è? L'impressione quando uno arriva all'aeroporto sicuramente non è che è una bella impressione, perché sembra un aeroporto che non esistono più. Io non pensavo esistessero ancora questi aeroporti. Quando arrivi in un paese normale, straniero, o qualunque paese, quando vedi il primo impatto è sempre l'aeroporto. Ma in qualunque posto, se tu c'hai un feeling positivo e la struttura, e capisci che sei un posto dove la gente ci tiene, dove la gente... Perché è il biglietto da visita e uno arriva, arriva lì. Invece quando uno arriva non è sicuramente quello che pensa. E pensa che viaggiavi con l'aereo privato. Se viaggiassi con l'Italia era ancora peggio. Non sarei mai arrivato. Cioè la vita per Flavio può cominciare davvero ogni giorno. Credo che questo sia un esempio molto importante per qualsiasi giovane di questa terra che deve combattere contro tante difficoltà. Allora ti chiedo, dato che tu sei un uomo molto concreto, che cosa farebbe Flavio Briatore se oggi avesse 18 anni, fresco di diploma, e vivesse a Reggio Calabria? Se io fossi un ragazzo, io l'ho detto l'altro giorno in un'intervista, ha fatto anche molto... Tutti qui vogliono laurearsi, in Italia, qui non parliamo solo della Calabria. Le lauree sfornano dei disoccupati. Ma non si può fare dei lavori, essere abbastanza autosufficiente a 20 anni, a 21, a 22, cioè potersi permettere una macchina, una moto, un triciclo, qualunque cosa. È mica possibile che in un paese come questo, dei ragazzi giovani non si inventino una spiaggia giusta, non si inventano un servizio giusto per i turisti. Avete i bronzi di Riace, che questo qui mi sembra una roba incredibile, no? Che qualcuno qui ha tenuto nelle cantine, no? Più o meno. Un po' sdraiate, hanno riposato un po'. Difatti le foto dei bronzi sono molto... Mi hanno dato due foto, sono molto riposate, perché dopo aver dormito per tre mesi o tre anni, mi sembra molto in forma i bronzi. Ma non è normale. Cioè è una roba che tutti ci invidiano. Io credo che noi ci dobbiamo rendere conto del territorio. E i ragazzi di adesso, invece di girare a vuoto, su e giù, che poi se gli chiedi dove vanno non lo sanno neanche, dovrebbero tutti quanti cominciare a lavorare, cominciare a fare qualcosa in questo paese. Perché chi va via di qui è quello che forse ha meno coraggio, no?